Il presidente della Commissione Speciale Aree Interne, Michele Cammarano, venerdì mattina in compagnia della senatrice Felicia Gaudiano, ha incontrato il sindaco di Capaccio Pestum e il presidente del Consorzio di Bonifica di Capaccio Pestum, Roberto Ciuccio, per parlare della costruzione del nuovo sovrappasso alla stazione ferroviaria del comune di Capaccio Pestum. Dopo gli interventi di restyling della stazione di Capaccio Roccadaspide, ancora in fase di completamento e alla luce di contatti e colloqui con i responsabili nazionali di RFI, siamo riusciti ad ottenere da quest'ultima il parere favorevole alla costruzione di un nuovo sovrappasso per la stessa stazione. Il progetto ricade sia nel perimetro di proprietà del Consorzio di Bonifica sia nell'area demaniale del comune di Capaccio Pestum. L'incontro è stato molto positivo e siamo in attesa di un atto deliberativo da parte di entrambi gli enti. Ringrazio personalmente il sindaco di Capaccio Pestum e il presidente del Consorzio per la collaborazione alla realizzazione di un progetto che va a rafforzare e a migliorare l'opera di sviluppo delle nostre aree interne che stiamo portando avanti da tempo. Un progetto che parte dall'apertura dell'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e si rafforza con l'alta velocità. Continueremo, conclude Cammarano, a impegnarci per una svolta infrastrutturale che ridisegni l'assetto dei nostri territori.